Ero sul bus numero sette Quando d'animo improvviso Pronuncio la seguente frase a bassa voce Ma quando è che si ricomincia da capo? Ma quando è che si ricomincia? Così tutto prega intorno a me Gli oggetti, il finestrino, il mio vicino Sembra una staffetta del destino Che snocciola pensieri in vano Ma quando è che si ricomincia da capo? Ma quando è che si ricomincia? Ho pensato e ripensato a quel pensiero Fino a credere che non è esistito mai Almeno non nella versione ufficiale Del vivere ufficiale Certo, ora non posso provarlo Che accade almeno una volta al giorno In un angolo del cervello Come un segreto in parallelo Che non dorme mai 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 Ma quando è che si ricomincia da capo, ma quando è che si ricomincia?